Compagni e compagne, penso che voi conosciate già le indicazioni che sono venute dai primi risultati. In termini strettamente numerici noi passiamo da rappresentare nel 1972 poco più di un quarto dell'elettorato, 27%, passiamo ormai a rappresentare stabilmente e con radici profonde un terzo dell'elettorato, un italiano su tre, vota comunista.